Omnia Solar è una start-up nel mondo delle rinnovabili, ci occupiamo di produzione di pannelli fotovoltaici che si inseriscono in una fascia premium nel settore del fotovoltaico. Come vi dicevo, Omnia è una start-up ma fa parte di un gruppo che è attivo nel mondo delle rinnovabili, dell'economia green, da ormai 25 anni. Quindi produciamo i nostri prodotti ingegnerizzati completamente in Italia, siamo un'azienda italiana e siamo qui al Saie per diversi motivi. I principali sono quelli di consolidare la nostra presenza nel sud Italia, in particolare in Puglia che è un mercato fondamentale, molto importante per il mondo del fotovoltaico. Per fare networking devo dire che in queste giornate abbiamo avuto molti contatti interessanti, c'è una grandissima partecipazione. Il nostro stand offre una visione un po' diversa da quella che si è abituati a vedere almeno nel nostro settore dove diamo un'accoglienza calorosa, un'immagine e una comunicazione molto piacevole, molto accogliente. Cerchiamo di trasmettere la nostra italianità non solo con l'eccellenza del prodotto ma soprattutto anche proprio con questo spirito di assistenza, di servizio e di accoglienza. Crediamo insomma di avere ottenuto un buon riscontro in questi giorni. Grazie a tutti.